Papà, papà! Papà! E va. Che vogliono? Che ti fanno? Niente, niente piccolina, sta tranquilla. Devo andare con questi signori e mi attorno presto. Però ti lascio... Ti lascio una cosa molto importante. E un cuorecino. Che devi portare sempre con te. Sempre. Eh? Va bene? Hai scelta tessa. Hai fatto la scelta sbagliata. Voi. Va bene? Voi. 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 Voi.